Saluti ragazzi e benvenuti in questo brevissimo video Signori miei, quest'oggi vi volevo dare una mano Volevo dare una mano a voi come vorrei dare una mano a me Vi spiego meglio In questo periodo i feed di Youtube hanno deciso di praticare apoptosi Che per chi non lo sapesse è il suicidio In sostanza, signori miei In questa sezione che vedete qua delle iscrizioni Che sto segnando col mouse Praticamente accade che non arrivano più i video Non arrivano più le notifiche Oggi vi voglio illustrare un metodo che magari conoscete già Ma siccome non è la prima volta che succede E la situazione mi sta dando anche sui nervi Mi sembra giusto darvi delle informazioni Per permettervi di non perdervi non solo i miei video Ma i video di qualsiasi Youtuber che seguite Perché so che poi dà fastidio dover recuperare più video magari Non solo dover recuperare più video ma volerli recuperare E non avere il tempo a disposizione Detto ciò vi faccio vedere come si fa in breve Andate sul canale a caso In questo caso prendo il canale di Luke E premete questa Questa campanellina In questo momento io le ho già Vi basterà semplicemente Premere la campanellina E spuntare questa casellina In questo modo spuntandola Potrete avere tutte le notifiche dei video Che caricherà lo Youtuber Del quale avete spuntato la casellina Mi raccomando signori miei fatelo Perché è davvero una cosa che non vi richiede sforzo E vi tornerà davvero utile E non fatelo mi raccomando solo col mio canale Ma con tutti i canali di cui volete seguire assiduamente i video Mi raccomando è molto importante Per darci una mano tutti insieme Detto ciò il video finisce Spero che voi abbiate fatto quello che vi ho detto di fare Non vi chiedo like, non vi chiedo commenti Non vi chiedo niente di particolare Solo di darci una mano tutti insieme Bella ragazzi